Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Nel corso di questa domenica 13 marzo avremo un peggioramento del tempo sulle isole maggiori a causa di una perturbazione atlantica che porterà fenomeni limitatamente a queste aree della penisola e all'estremo sud. Altrove un po' di nubi sul nord-ovest, sul lato tirrenico, solleggiato invece sul lato triatico. In Abruzzo sarà un fine settimana non complesso, stabile e solleggiato, dominato dal sole. Solo nelle aree interne, a ridosso dei monti, qualche nocuo addensamento tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve aumento nelle massime, valori tra 6 e 10 gradi. Risveglio molto freddo, minime tra meno 4 e 2 gradi. Venti deboli nord-orientali. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti.